Ciao ragazzi, eccoci al Formative Play Lover Q&A, ciao Cristian, e partiamo con la domanda come posso sapere se avrò risultati anche dopo il corso? Allora, questa è un'altra domanda che ci viene spesso posta, ma io come faccio a sapere se dopo il corso continuerò ad avere risultati, non è che magari ce li ho solo perché ci siete voi? Allora, in primis va precisato che i risultati ce li hai anche dopo il corso, se fai e continui a fare anche dopo il corso, perché se dopo il corso tu te ne stai a casa, non esci più, non fai più niente, non vai nei chat, non vai nei locai, non vai in giro ogni giorno, ogni tanto, è ovvio che non hai risultati e perché non fai niente, no? C'è gente che crede che le ragazze arrivino a casa con Bartolini e ti sono a porta di casa, no ma scusi, la posso consegnare? Biondo, occhi azzurri, quarta di seno, a posto, labbra belle gonfie, perfetto, piano musco a destra, non funziona così, no? Quindi per avere risultati bisogna essere costanti, le cose straordinarie sono le cose ordinarie fatte ogni giorno, però ma la gente non le fa, perché bisogna farle ogni giorno, no? e dicono, ma ogni giorno? Oh ma io no, io sì voglio la donna, ma non posso fare queste cose qua ogni giorno, no, 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 capisci? Quindi è un discorso proprio di approccio mentale, cioè va capito che bisogna essere costanti, questo è un percorso, non è un corso, non finisce la domenica, la domenica del corso, del corso master, perché per la maggior parte noi vendiamo corsi di una settimana, che adesso stanno per chiudere, ma, o forse sono già chiusi, e non so quando riuscire a questo video, perché eravamo troppe richieste, cioè un casino fare i corsi una settimana con gli altri numeri, quindi ragazzi bisogna essere costanti, cioè dovete capire che i risultati di valore richiedono tempo e applicazione, impegno, energie, non potete pensare di avere svagonate di ragazze a casa e voi non uscite mai, non funziona così, dovete darvi da fare, quindi se volete crearvi le situazioni e avere risultati, dovete uscire di sera, a volte uscire di giorno, quella domenica quando potete, con gli amici, e andare avanti anche sul binario delle chat che va portato avanti in parallelo alla parte del vivo, non dovete dimenticarvi che live e chat devono essere portate avanti di pari passo. Grazie.